Benvenuti al programma La Verità del Vangelo, con Andrew Womack, un ministero di insegnamento che pone l'enfasi sull'amore e la grazia incondizionati di Dio. Dio ci stava chiamando qui e noi ci siamo detti, andiamo, saremo ubbidienti alla chiamata di Dio. Questo era esattamente il posto in cui Dio ci voleva. È stato qui che Dio ci ha provveduto guarigione. So anche che questo è il posto in cui Dio ci rivela il suo proposito per la nostra vita. Ed ora, ecco Andrew. Benvenuti al programma La Verità del Vangelo. Oggi voglio continuare l'insegnamento Un modo migliore di pregare. Ieri abbiamo iniziato, sarà una serie lunga a diverse settimane. Ho anche un libro, come vedete Un modo migliore di pregare. C'è anche del materiale audio e video che potete ordinare se volete al nostro ufficio italiano. Come ho detto ieri, Gesù ha iniziato questo insegnamento sulla preghiera in Matteo capitolo 6. La prima cosa che ha detto è stata proprio, non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare. Gli ipocriti amano pregare. Iniziò a smentire proprio tutto ciò che la religione del tempo faceva passare come preghiera, ma che non era una reale comunione con Dio. Sai, se stai avendo una conversazione e nessuno ti ascolta, questa non è una conversazione. È un monologo. Ed è triste da dirsi, ma molte persone fanno questo quando pregano. Sono convinte di pregare senza avere però una reale comunicazione con Dio. Questo è degenerato al punto tale che oggi vediamo addirittura persone che pregano preghiere che sono ricitate a memoria per sentirsi a posto con la loro coscienza, ma non è una vera e propria comunicazione con Dio. Quindi quando Gesù iniziò a insegnare come pregare, la prima cosa che disse in Matteo capitolo 6, verso 5, Quando pregate non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoge e negli angoli delle strade, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che questo è il premio che ne hanno. E io penso che molte, molte preghiere tante volte vengono fatte per poter ricevere ammirazione da parte delle persone. Ricordo la chiesa dove sono cresciuto da bambino e si usava chiedere a qualcuno di fare una preghiera erano persone normali che parlavano normalmente, ma quando poi dovevano pregare in chiesa, il loro linguaggio improvvisamente si trasformava, diventava una sorta di lessico biblico antico, iniziavano a enfatizzare il discorso, utilizzare un tono particolare, chiamare Dio con grossi paroloni, Padre Eccelso, Creatore, imploriamo umilmente la Tua misericordia oggi. Era una forma religiosa. E tutto questo a me non piace. Assolutamente no. E la stessa cosa si applica ai predicatori. Sapete, molte persone mi hanno confessato tante volte che vedendomi in televisione, semplicemente cambiano canale. Perché io non sono il tipico predicatore che sta in piedi, dietro il pulpito, che grida, che schiamazza, che rende il discorso enfatico. Il concetto che si ha è che molte volte il predicatore è uno che grida. E più grida, più un predicatore unto si pensa. Mentre io, se ci pensate bene, sono in realtà esattamente l'opposto. Io reputo molte volte una persona religiosa, una qualunque persona che improvvisamente, quando prega o parla di Dio, cambia il modo e il tono di parlare, o quando apre una Bibbia per predicare, utilizza una gestualità e un tono diverso. Per me, alla fine, è soltanto religiosità. Forse qualcuno si sta offendendo, però è la realtà. Se vado al negozio di alimentari, oppure vado a fare benzina, parlo sempre con lo stesso tono di voce. Sono sempre io, non è che divento un'altra persona quando predico o quando vado in TV. Credo che ministrare significa anche parlare ad una sola persona, e se il pulpito è un'occasione per farti cambiare il linguaggio, è allora la verità è che sei un ipocrita. E questo è quello che Gesù sta dicendo qui. Non essere come gli ipocriti che amano pregare. Lo fanno in modo tale da essere visti dagli uomini. Una volta ho ottenuto un incontro con un predicatore, Schambach, che è un predicatore, appunto, che predica con un tono acceso, drammatico, molto dimostrativo. Dopo, con mia madre e mia moglie, andai a cenare con lui, e andammo anche nella sua auto. Era una piccola decappottabile. E vedete, Schambach, sul pulpito, era esattamente la stessa persona che era in macchina, che era a cena, e quando andammo anche a comprarci un gelato. Quando parlava con qualcuno, aveva quel tipo di drammaticità. Era sempre lui. Direi invece che una persona che è solitamente pacata, ma improvvisamente cambia il suo modo di parlare, il suo tono, il suo modo di pregare, o predicare di fronte alle persone, e magari inizia a usare paroloni con una voce tonante, allora in quel caso è soltanto una persona religiosa. Alla fine, se ci pensate bene, è soltanto ipocrisia. Nella migliore delle ipotesi è religiosità. È una totale ipocrisia, direi. So che molti non amano questo, ma io seguo l'esempio di Gesù qui. Lui, prima di insegnare a pregare, insegnò come non pregare. È andato contro le tradizioni religiose del suo tempo e l'ha menzionato proprio qui, in questo quinto verso. La gente ama pregare in piedi nelle sinagogie e negli angoli delle strade. Ci sono anche altri esempi dove Gesù dice che i farisei, per esempio, amavano suonare la tromba prima di pregare. Letteralmente mandavano una persona a precederli che suonasse proprio la tromba per attirare l'attenzione altruoi. Vedete, questa è tutt'altro che comunione con Dio, a mio parere. Non è adorare Dio. Allo stesso modo, purtroppo, so che molti di quelli che stanno guardando il programma sono persone che sono abituati a pregare in questo modo. Sono persone religiose nel pregare. E molti forse diranno non importa come prego, l'importante è che lo faccio. Gesù qui dice che c'è un modo giusto, però. È un modo sbagliato anche di pregare. Quindi non pregare con un tono di voce aulico, con un lessico da antica di odati, per fare magari una buona impressione, o pensare che questo magari ti rende in qualche modo più santo. Devi solo essere vero, reale. Hai bisogno di parlare con Dio come se stessi parlando con una persona, come se stessi parlando con me, ovviamente con più rispetto, ma senza trasformarti in qualcuno che non sei. Sai, la parola ipocrita viene da una parola greca. Questa parola significa dietro la maschera e risale a quegli attori che recitavano al teatro greco con una maschera sul viso, appunto. Dunque non erano loro stessi, ma stavano rappresentando un altro personaggio. Erano persone che si comportavano come qualcun altro. È questo che, se ci pensi bene, la parola ipocrita sta descrivendo. E quando proprio una persona, tutta ad un tratto, inizia all'improvviso a recitare, utilizza un linguaggio totalmente diverso, quando parli con Dio, cominci a utilizzare un linguaggio totalmente diverso, utilizzi parole che non utilizzi mai. E allora in quel caso sei solo un ipocrita. Non lo sto dicendo con rabbia. Sto cercando soltanto di dire che fino a quando non ci libereremo della spazzatura religiosa che ci è stata insegnata rispetto al tema della preghiera e non cominciamo a diventare davvero reali e veri con Dio, non stiamo davvero comunicando con Lui. Sapete, ci sono persone che delle volte vengono da me e cercano di impressionarmi, parlano molto di loro stessi, di cosa sono, di cosa fanno. In verità, tutto quello che alla fine questo fa è darmi un'impressione negativa su di loro. So che questa persona alla fine sta semplicemente recitando e questo non mi benedice. Il tipo di persone che mi piace molto sono quelle persone che sono semplicemente loro stesse. Vedete, a volte ci sono persone che magari non saranno le più diplomatiche, ti dicono direttamente quello che pensano e a me piace tutto questo, perché in quel modo posso capire se potermi affidare a quella persona o meno. Se non amano qualcosa, saranno oneste nel dirtelo, nel comunicartelo. Io amo molto le persone genuine. Una delle cose che sempre mi dicono quando mi presentano a qualcuno è che io dal vivo do esattamente la stessa impressione di quando sono in televisione. E mi sono chiesto, ma perché mi presentano in questo modo? Significa forse che alcuni ministri sembrano qualcuno quando predicano e usano un certo linguaggio e quando non predicano sono un'altra persona? Ho fatto questa domanda a diverse persone e tutti mi hanno confermato quanto pensavo che purtroppo molti religiosi allestiscono proprio una specie di show. Ed è quello che Gesù sta dicendo qui. Non siate in questo modo, non siate come gli ipocriti. Sii genuino quando preghi, sii te stesso, parla con Dio in maniera normale, non cercare di usare la preghiera per metterti in mostra. Gesù dice che il premio che avrai in quel caso è soltanto una pacca sulle spalle. Ti diranno, oh, sei meraviglioso, preghi in maniera bellissima e questa sarà la tua ricompensa. Non certo otterrai una ricompensa da parte di Dio. Nel verso 6 dice appunto, quando preghi, ha detto Gesù, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la tua preghiera al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa pubblicamente. Ora, queste stesse parole, purtroppo le ho viste essere utilizzate in maniera inappropriata. Quando da giovane ero appunto nella Chiesa Battista, pregavo tantissimo e addirittura eravamo un gruppo di giovani molto ferventi che prima di andare a scuola la mattina si alzava presto per pregare tutti insieme. Ed eravamo così ferventi e così spirituali che il pastore ci temela perché lui stesso non era tanto fervente quanto noi. E un giorno il pastore venne e ci disse che dovevamo smettere di pregare in pubblico. E il pastore utilizzò proprio questo stesso verso che ho citato adesso e ci disse dovete andare nella vostra stanzetta a pregare. Non dovresti pregare di fronte ad un'altra persona. Ma in realtà non è questo il significato del verso perché Gesù stesso, se ci pensate, pregava pubblichamente. Capitolo 12 di Giovanni Gesù pregò ad alta voce Padre, glorifica il tuo nome. E ricordate che in quel momento una voce venne dal cielo e disse lo glorificato e lo glorificherò ancora. Quindi Gesù pregò anche quando era in croce dicendo Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. E ci sono molteplici casi dove Gesù ha pregato pubblicamente davanti alle persone. Quindi questo non vuol dire che non si può fare ma l'enfasi è che non dovresti pregare per ottenere il riconoscimento delle persone. In altre parole non dovresti pregare per avere un diritto di vantarti. e purtroppo c'è tanta preghiera di questo tipo. Non so quanti di voi ricordano ma circa 20 o 30 anni fa ci fu un nuovo insegnamento nel corpo di Cristo che spingeva le persone a pregare per almeno un'ora. Si basava sul Padre Nostro divenne molto popolare dovevi fermarti alla fine di ogni verso per esempio Padre Nostro che sei nei cieli e poi dovevi iniziare ad adorare Dio dovevi cominciare a ringraziarlo per circa 20 minuti e poi dovevi proseguire con il resto della preghiera. Quando poi dicevi dacci oggi il nostro pane quotidiano era quello il tempo più lungo in cui potevi fare le tue richieste confessare i tuoi peccati e così via c'era un modello di preghiera e quindi questa era la sequenza che le persone dovevano fare ogni giorno una volta al giorno. Larry Lee era uno di quelli che proclamava e annunciava questo genere di insegnamento e un giorno uno dei suoi associati venne a insegnare questa cosa nell'area di Colorado Springs dove abitavo e venne nel mio ufficio si presentò e alla fine della confessazione cominciò a chiedermi quanto tempo tu prendi al giorno per pregare e io rimasi un po' interdetto da quella domanda e cominciai a chiedermi quale fosse il motivo di questa domanda sinceramente non riuscii a trovare nessuna buona ragione affinché lui potesse farmi quella domanda se non quella ho immaginato di potermi criticare in qualche modo voleva compararsi con me per vedere chi tra di noi fosse quello più santo quello più consacrato serviva forse per confermare il fatto che lui pensava di essere più santo di me quindi non trovai nessuna buona ragione affinché lui facesse quella domanda e il signore a un certo punto mi suggerì stavo pensando mi suggerì quanto tempo hai speso con Jamie cioè mia moglie ieri ed era proprio successo che il giorno prima erano stato a casa tutto il giorno quindi avevo speso tutto il giorno con mia moglie quindi quanto tempo hai speso mi disse beh un giorno intero potresti quindi dire che hai speso 5 minuti 10 minuti 20 minuti un'ora ho detto no perché in realtà ho parlato con lei tutto il giorno magari non abbiamo speso tutto il tempo parlando ma siamo stati lì insieme non eravamo in visita eravamo insieme in comunione e in quell'istante il signore mi suggerì che è ridicolo ridurre il tempo di comunione con Dio ad un'ora soltanto quando hai la possibilità di stare in comunione con lui 24 ore su 24 lui non ti lascerà non ti abbandonerà sarà sempre lì e quindi come puoi soltanto spendere una porzione della tua giornata con Dio e poi ignorarlo per il resto del giorno forse io e mia moglie non parliamo continuamente ma in ogni momento io sono cosciente di quello che lei sta facendo lei è cosciente di quello che faccio io quindi abbiamo comunione appunto questa fu una delle cose che mi fece comprendere proprio come pregare quando dormo se sogno del Signore sto anche pregando vedete se mi alzo la notte sto pregando con Dio quindi sto pregando continuamente quando mi alzo la mattina è la stessa cosa per me pregare è un'esperienza continua non sono mai disconnesso da Dio parlo continuamente con Dio in 1 Tessalonicesi 5 17 si dice di pregare senza smettere mai penso che ci siano molti modi in cui puoi applicare questo verso ma il più ovvio è quello di avere comunione con Dio costantemente penso quindi che delle volte sia anche sbagliato proprio fissare un tempo per esempio un'ora per essere in comunione con Dio ma io credo io credo che noi dovremmo essere in comunione con Dio costantemente è triste che delle volte le persone dedicano un'ora a Dio poi per esempio tutto il resto del giorno lo passano a guardare la tv e questo atteggiamento penso un po' dispiace al Signore se tu stessi in comunione con Dio difficilmente stareste lì a guardare tutte quelle cose che guardi così come non diresti alcune delle cose che dici non andresti in alcuni posti in cui alla fine finisci per andare non parleresti più di persone nel modo in cui parli vedete alcune persone spendono solo una certa quantità di tempo un segmento della loro giornata con Dio e poi il resto della giornata sono praticamente da soli ma perché passano un'ora o qualcosa del genere con il Signore beh allora pensano che in un modo o nell'altro il loro rapporto con Dio sia superiore questo sta dicendo esattamente l'opposto la tua preghiera non dovrebbe essere il modo di poter chiedere a qualcun altro quanto tempo tu trascorri in preghiera ogni giorno io passo più tempo di te sono meglio di te se avete quel tipo di atteggiamento alla tua preghiera non ha senso non è servire Dio non è davvero toccare Dio non è essere in comunione con Lui vedete c'è un sacco di spazzatura religiosa che è collegata all'idea della preghiera Matteo capitolo 6 verso 7 dice poi nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani perché essi pensano di essere sauditi per il numero grande delle loro parole beh credo non potrebbe essere più chiaro quando preghi non usare ripetizioni vane non dire continuamente la stessa cosa sarebbe paragonabile a quelle persone che recitano un rosario Padre Nostro Ave Maria tutte queste cose persone che recitano la preghiera del Signore il Padre Nostro e continuano a farlo come se fosse una sorta di mantra e pensano che in un modo o nell'altro questo significhi collegarsi con Dio avere comunione con Lui ma non lo è e alcune volte è accaduto che dopo dei servizi si sono manifestate delle presenze demoniache in alcune persone ero lì a ministrare liberazione alle persone e ricordo che una volta c'era una donna che era in piedi era vicino a me e quando questo demone si è manifestata si è spaventata e ha cominciato a recitare il Padre Nostro Padre Nostro che sei nei cieli si è santificato il tuo nome come una sorta di mitragliatrice ripeteva questa preghiera il più velocemente possibile mi sono girato verso di lei gli ho detto per piacere puoi smetterla e lei mi ha risposto ma cosa sto facendo di sbagliato sto ripetendo le scritture sto ripetendo il Padre Nostro ad alta voce ma lo faceva per paura non veniva dal cuore vedete in 1 Corinthians 13 c'è scritto che se date tutti i vostri beni per sfamare i poveri se dai anche il tuo corpo stesso per bruciare ma lo fai immotivato non dall'amore non ti fa guadagnare nulla non c'è alcun beneficio il motivo dietro alla vostra azione è più importante dell'azione stessa capitolo 13 di 1 Corinthians è scritto quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non ho amore divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo e se anche avessi il dono di profezie intendessi tutti i misteri tutta la scienza avessi tutta la fede da trasportare i monti ma non ho amore non sono nulla se reciti il Padre Nostra a memoria perché sei spinto dalla paura il motivo che ti spinge è più importante delle parole stesse che reciti e purtroppo ancora ci sono tante persone che recitano le preghiere a memoria come fossero dei mantra usano come dicevo il rosario per esempio ogni domenica partecipano a un rituale fatto e condito con questo genere di cose Gesù qui smonta proprio questi atteggiamenti religiosi dice di non fare come i pagani che usano varie ripetizioni quindi ripetere preghiere a memoria era già una consuetudine presso i popoli pagani del tempo se pensi che recitando queste preghiere in qualche modo ti renda più santo ti dico che questo ti rende soltanto più carnale ed ipocrita e lo so che ci sono persone che non sono benedette da quello che sto dicendo però prima di poter mettere una buona base abbiamo dovuto smantellare con martello pneumatico proprio certe cose liberarci da queste vecchie cose e vi sto leggendo le scritture cioè cose che ha detto Gesù Gesù quando venne si ritrovò in una cultura estremamente religiosa suonavano le trombe prima di pregare in una strada avevano queste filatterie strisce di cuoio che appendevano sulla testa per avere sempre la parola di Dio scritta davanti ai loro occhi e si rifacevano al Deuteronomio capitolo 6 dove si dice che avrai la parola di Dio costantemente davanti ai tuoi occhi quindi mettevano queste filatterie facevano tutte queste cose ma erano un esercizio religioso non c'era niente di genuino e vedete Dio odia queste cose anche al giorno d'oggi e vedete molte delle preghiere che facciamo anche oggi se ci pensate bene non sono altro che un'espressione di religiosità non è davvero parlare al Signore con il proprio cuore c'è ancora oggi un sacco di gente alla cui preghiera non è nulla altro che roba religiosa non stai davvero parlando con Dio il versetto dice essi pensano di essere esauditi per le molte parole vedete pregare per un'ora non ti rende migliore di chi prega per cinque minuti ma anche dire Signore aiutami semplicemente è una preghiera a Dio è una delle migliori preghiere in realtà Dio aiutami per piacere quella è una grande preghiera se guardi Gesù e gli diceva sei guarito oppure diceva al mare calmati ed era quella la lunghezza delle sue preghiere una massimo due parole non ha pregato non ha pregato queste lunghe 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 preghiere ora a volte ci sono anzi direi ci sono due casi distinti in cui è registrato nei Vangeli che ci sono stati come dicevo due distinti casi in cui Gesù ha trascorso tutta la notte in preghiera ad esempio quando dovete scegliere i dodici discepoli aveva bisogno di saggezza e di direzione da parte del Padre per quella scelta importante credo che ci siano quindi due volte istanze in cui il Signore ha pregato tutta la notte ma la maggior parte delle sue preghiere erano preghiere molto molto brevi e gli ha detto specificamente però che gli ipocriti pensano che saranno i sauditi per il numero delle loro parole è assolutamente sbagliato e noi oggi purtroppo abbiamo lo stesso atteggiamento farisaico nel corpo di Cristo oggi tante volte che si pensa quanto tempo si prega se si utilizza un linguaggio forbito o meno che tu pronunci Dio in un modo particolare molto eloquente Dio e vi assicuro che tutto ciò non significa assolutamente nulla per Dio e quella piccola pacca sulla spalla il sorriso delle persone che ti faranno un ceno con la testa perché sei così tanto bravo e santo questa è la ricompensa che otterrete Dio vorrebbe piuttosto che tu sia vero con Lui quando ho iniziato il mio ministero ero una cittadina che si chiamava Pritchett in Colorado mi sono trovato a parlare con molti contadini che erano davvero delle brave persone amavano Dio erano sicuramente nate di nuovo ma non volevano andare in chiesa a causa dell'ipocrisia generale che era in quegli ambienti e io mi sentivo molto a mio agio con quelle persone e per la verità mi sentivo più a mio agio con loro che con quelli che andavano in chiesa che apparivano davvero così santi ma il loro cuore era in realtà lontano da Dio invece quelle persone erano genuine e io penso che molte volte il Signore sia più compiaciuto di queste persone rispetto a quelle che indossano i loro abiti di luso per andare in chiesa per dire le cose giuste ma il loro cuore è lontano da Dio è tutta una questione di cuore uno Samuel 16,7 dice che Dio non guarda l'apparenza ma il cuore Dio sta guardando il tuo cuore e sa se sei un ipocrita se stai facendo uno show o se sei vero queste scritture dicono molto chiaramente di non essere un ipocrita ma reale con Dio